non ci stavano lavorando non ha più tenuto ma sarà finita la macchina giù dentro al cortile? dal rumore che era stato allora abbiamo messi un ragazzo che abita anche dentro a Guglietro ma non lavora non ha bisogno di essere un ragazzo come voi vedete con lì il tazziappino d'acqua e anche tutto il continuo che c'era di qua era tutto pieno se ci stessero facendo chissà che avranno iniziato a fare qualcosa e poi non la lasciate lì abbandonata così da un sacco di tempo il tetto era tutto pieno d'acqua sempre grazie a tutti grazie a tutti